Leder spara fortissimo sulla prima, chi arriva per primo c'è Chierini ma subito dopo c'è Chiellini sulla ribattuta, qui De Gea non è esattamente perfetto Guarda già qua poteva essere gol ma fantastico, 1-0 stra irritato dalla panchina Alessandro Antinelli Super risultanza di Conte ma dura un attimo perché poi si cida verso Buffon e dice calma 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 e Buffon